Partiti. Bella Detruria ridunna i più attivi nella fase iniziale della corsa. Alle spalle della coppia di testa si va a posizionare gradatamente Costantina Regina, avendo in spalle Valsugana, quindi Giosarian, Marpione, l'Armoni, cavalli che hanno completato l'arco della prima curva vengono ad affrontare il passaggio davanti alle tribune con Ridun che fa l'andatura nei confronti di Bella Detruria, quindi Cristo de Glass, cavalli che adesso vengono ad affrontare il salto della riviera. Ridun procede in vantaggio nei confronti di Bella Detruria, quindi Costantina Regina, Cristo de Glass, Shan, poi Giosarian, di rincalzo a questi c'è Valsugana, quindi Marpione, ancora l'Armoni e Carbonara. Così si assestano le posizioni all'uscita dalla curva, con i cavalli che affrontano il salto del doppio travone Ridun mantiene